Grazie a tutti. Ma adesso vi volevo fare vedere questo lavoro con un video veloce veloce breve breve per farvi vedere che cosa ho fatto. Allora una maglia top down molto semplice senza tante complicazioni nel senso che è tutta maglia rasata però la particolarità è che sono riuscita a nascondere siccome non era una rocca ma sono dei gomitoli ma sono riuscita a nascondere tutti i fili e l'ho fatta double e ve la volevo fare. Ora vediamo se riesco ad avvicinarmi abbastanza vedete allora è fatta tutta dal rovescio con il raglan dove poi ho fatto gli aumenti per il top down ma è un top down semplicissimo non ne vale nemmeno la pena di dare le spiegazioni perché appunto è semplicissimo. Poi ho continuato guardiamo se riesco a farvi vedere vedete qui il raglan l'ho continuato sui fianchi ho proseguito con i tre punti di maglia rasata. Ora essendo appesa non si vede però l'ho un pochino incavata sciancrata non so mi sembra che in gergo si dica così comunque ho fatto questo questo lavoro e non c'è un nodo non c'è niente perché ho unito il filato in modo che non si vedesse il nodo. Adesso ve la faccio vedere dall'altra parte ed eccolo dall'altra parte dalla maglia rasata diritta anziché maglia rasata rovescia. Ora l'ho anche appeso male sembra che abbia una manica più lunga dell'altra ma vi assicuro che sono gli stessi giri. Vedete da questa parte si vede la maglia rasata con il raglan a rovescio e la riga che continua sui fianchi a rovescio. Non è niente di che però diciamo che potrebbero quasi sembrare due maglie a seconda dell'occorrenza se si preferisce più da una parte o dall'altra è possibile farlo. Molto semplice molto lineare a parte questa piccola incavatura alla vita il collo non è né un dolce vita né un lupetto è un po' più di un lupetto un po' meno di un dolce vita però piace molto così perché rimane molto aderente senza bisogno. Mi vedete nel vedo che si vede la mia ombra nel vetro dalla vetrinetta e niente volevo solo farvi vedere questo può essere un'idea per le vostre prossime per i vostri prossimi lavori. Ripeto un top down qualsiasi con gli aumenti regolari intorno lì al raglan alle due all'unica cosa vi volevo dire io ho incominciato come potrete vedere anche in molti altri miei video ho incominciato sì dal collo ma non ho fatto il collo. Per il collo ho ripreso poi i punti perché io generalmente faccio così vi dico anche il motivo io inizio la maglia con il filato e i ferri che mi sembrano più adatti al filato. A volte succede che ho perché ho la mano più lenta o perché ho la mano un pochino più tesa devo cambiare il numero dei millimetri del ferro perché magari rimane un po' molle o un po' dura. Allora se inizio quando poi scusate quando poi ho fatto la maglia in base alla mia tensione alla tensione della mia mano no decido se nel collo mettere usare lo stesso numero di ferri che ho usato per la maglia oppure mettere mezzo numero addirittura un numero in meno. In questo caso vi posso dire che siccome mi sembrava che il collo restasse un pochino largo allora la maglia l'ho fatta col numero del 7 quando ho ripreso i punti ho fatto 6 7 giri col 6 e mezzo e poi ho proseguito con il 6 non si vede nemmeno. Ora io vi ho indicato qui ma perché c'è il cambio di colore non perché sono arrivata lì perché 6 giri sarebbero a questa altezza perché appunto mi sembrava che il collo stringesse un pochino poco e poi addosso sarebbe rimasto un po' staccato e stava male. E questo è l'unico motivo per cui non inizio mai da qua ma inizio sempre da qua con un filo diverso ma lo avrete già visto negli altri miei video con un filo diverso faccio un giro monto i punti faccio un giro col filo di colore diverso e poi proseguo nel mio lavoro cioè dal top al down. Il collo lo faccio in un secondo tempo riprendendo tutti i punti e facendo il collo come meglio diciamo penso che possa venire. Anche qui il filo l'ho unito in modo che non si veda né nodo né niente perché ripeto volevo fare una maglia a dubbio e una maglia reversibile. Va bene vi lascio perché ho detto un video breve ma siccome sono una chiaccherona mi sto dilungando. Al prossimo, prossimo sarà una copertina, aspettate perché faccio una copertina bellissima, non aspettate, seguitemi. Un bacio a tutte. Un bacio a tutti.